Nella serata di venerdì 26 febbraio, la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello VIP, si è conclusa l'esperienza da concorrente di Rosalinda Cannavò. È stata senza dubbio una delle protagoniste di questi cinque mesi, fino alle ultime settimane, quando ha deciso di lasciarsi andare alle emozioni e di assecondare i suoi sentimenti per Andrea Zenga, lasciando il fidanzato Giuliano Condorelli indifferita. Ebbene, è proprio con l'ex Geffino che l'attrice siciliana pubblica la sua prima story dopo l'eliminazione dal reality. Felice, sorridente e finalmente libera dalle mura di Cinecittà, dopo cinque mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, Rosalinda Cannavò si mostra radiosa insieme ad Andrea Zenga e in un video, salutando i suoi fan, triplicati grazie all'esperienza nel reality di Canale 5. Ecco a voi le stories. Prima storia dopo l'uscita, l'eliminazione al grande fratello e guardate con chi sono! Finalmente insieme!